buonasera a tutti amici video volante per informarvi dei risultati delle tp finals video volante perché la mia settimana di vacanza anzi i miei sei giorni di vacanza sono terminati quindi sto sono in albergo che sto rifacendo le valigie direte voi beato te che ci sei stato effettivamente non avete neanche tutti i torti e dunque la notizia del giorno è che ruble va abbattuto ci pass in 37 36 6362 dominio assoluto del russo negli ultimi due set e ruble perché si guadagna la possibilità di andare in semifinale contro contro l'ulta l'altra semifinale è fra gioco viceri ha vinto il girone battendo anche medvede oggi in tre set gli ultimi due set altre break partita durata oltre tre ore gioco viceri sembra un cannibale vuole vuole assolutamente i 1500 punti delle delle finals e appunto gioco vi ci affronterà fritz nelle semifinale la semifinale di domani mentre come detto l'altra sarà tra ruble tra ruble e e rude è ovvio che con l'eliminazione di zizi passi i favori del pronostico se già erano sbilanciate a favore di di gioco vi c'è adesso lo sono ancora di più lo sono ancora di più perché gioco vi c'è superiore a tutti e tre gli avversari rimasti avversari che dovranno avranno bisogno della super prestazione per poter anche solo mettere in difficoltà gioco vi c'è in questa edizione delle finals che sembra sembra dall'esito praticamente scontato è finito anche il fanta tennis perché con l'eliminazione di zizi pass lei si si azzerano le possibilità per per federico di raggiungere il capolista quindi complimenti a a jean pierre che vince meritatissimamente il fanta tennis complimenti anche a federico mentre c'è per l'ottimo secondo posto mentre c'è ancora un briciolo di lotta forse per il terzo adesso dovrei vedere la classifica sì c'è ancora un filo di lotta per il terzo posto anzi no perché il mev di davidone non ha passato il turno quindi il terzo è riccardo freddi complimenti a tutte e tre ma complimenti a tutti e i qualificati alle atp final vuol dire che hanno fatto un ottimo percorso vuol dire che comunque la differenza l'hanno fatta i dettagli grazie a tutti coloro che hanno partecipato al fanta tennis fanta tennis che di fatto si è chiuso stasera è chiaro che la classifica ufficiale uscirà soltanto alla fine delle final ma di fatto stasera abbiamo vincitore secondo posto e terzo quindi grazie a tutti coloro che hanno partecipato vi aspetto di nuovo nel 2023 con la nuova edizione aspetto anche molti altri di voi che per partecipare è molto semplice vi dovete iscrivervi al canale e poi dovrete guardare la diretta del 15 dicembre in cui vi verranno spiegate le nuove modalità per partecipare al fanta tennis nel frattempo io vi ringrazio continuo a fare tristemente perché quando fai i bagagli di ritorno da una vacanza è un fare i bagagli molto meno allegro di quando li fai per partire torno a fare i bagagli ci vediamo domani per commentare le semifinali grazie a tutti per dell'attenzione buona serata buon buon venerdì sera e poi buon weekend ma per quello abbiamo tempo per dircelo anche domani grazie a tutti